Non so che è uscito l'hate il copp Ah Eh, minchia mo' andare a pusciare lì, è una bella merda Ragazzi c'ho un vissato e un controattacco C'ho un uav e un controattacco C'è questo bastardo che c'ha sta roba Dell'ultima speranza Un fastidio, giuro Ok, quando la heal Madre di Dio, giuro What the fuck, bro? Minchia zio, questa mitrazione sono un diavolo con questa, giuro E' quella che si usa in compank Ruav Bello Non vado a matti, eh Anche le skin monocolore sono belle Se avessi una pistola non esisterebbe a sparare in aria dal nervoso E' stato lì in aria Let's go baby Devo fare l'altra Faccio l'altra SMG Minchia ma sto capendo quanto è un asso è figo Bro è un altro gioco da quando usano quest'arma, giuro Coglione io che mi sono focussato su quegli R schifosi lenti Vabbè Sì ho capito però la verità Sai qual è che tanto alla fine Queste armi vanno fatte appunto tutte Non ha senso fare una l'altra per prima E' focussarsi solo con una categoria di armi ti annoia Però ma dà un colpo sta roba Ma infatti per quello Sono in streak anche E' assurdo eh E' assurdo eh Sì sì ieri sera stavo provando i mitraglietti io E' assurdo quello Ma anche l'MP5 è bello E comunque ho visto che Se te va in privata no? Che si può fare b***e Madre bro La cazzo appena vista No non è ben possibile C'è troppi sniper in questa modalità Fini di p***na che rottura di coglioni Grazie Albi per gli undici Si continua bro Ti ringrazio al bonus 10 su 15 Uhhh 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 Bro giuro Questi stanno bestemmiando l'anima Fidati Uhhh 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 Io li sto scoppiando proprio Cioè Non mi tengono proprio bro Non mi tengono no